Accanto a noi c'è la signora Thea Cannarozzi dell'associazione Intrecciamo i Fili e soprattutto accanto a noi ci sono dei pezzi bellissimi, pezzi di antiquariato relativi alla storia della tessitura che a Ponte Felcino ha ovviamente inciso nel tempo. Ma parliamo innanzitutto, signora Thea, di quello che è la vostra associazione e di che cosa porta avanti anche in questa Felciniana 2017. Sì, la nostra associazione nasce circa dieci anni fa a Ponte Felcino, appunto. è nata dall'idea di due persone, un ex dipendente dell'anificio, quindi abbiamo questa storia e un insegnante di educazione, di tecnologia delle scuole medie. Si sono incontrati per caso, diciamo, di fronte a un telaio, proprio alla festa paesana e è venuta fuori un'idea, cioè si sono scambiate informazioni, poi come spesso succede tra artigiani hanno avuto l'idea di aprire un laboratorio permanente aperto a tutti e aperto ai giovani, giovanissimi, quindi i bambini degli elementari, i ragazzi delle scuole medie, gli adulti e poi abbiamo anche delle utenze tipo centri diurni che vengono da noi la mattina. Noi abbiamo un orario, teniamo aperto due giorni alla settimana, è il martedì e il giovedì, dalle dieci e mezzogiorno. Il pomeriggio per i bambini è il mercoledì e un'apertura serale sempre il martedì per gli adulti. Abbiamo appena finito un corso con un telaio un po' particolare, un telaio a carte, che ha una storia molto antica e le signore si sono appassionate e niente, ci teniamo in contatto. In questo momento è chiuso perché la scuola è chiusa, noi siamo ospiti della scuola media e quindi riprenderemo a settembre. Sì, noi abbiamo qui, oggi abbiamo portato per la festa questi due telai, questo in particolare ci abbiamo lavorato molto perché abbiamo unito due pezzi e abbiamo fatto un telaio solo. Allora, la struttura è degli anni 30-40 e l'altro pezzo, in realtà non sappiamo la provenienza, ma ci è interessato molto la tecnica perché è fatto con una tecnica molto antica che è alicetti, si possono fare dei disegni abbastanza elaborati. La fase successiva dello sviluppo del telaio è il telaio jacquard, quindi insomma siamo nella fase di passaggio. Invece questo è un telaio molto bello, ci siamo molto affezionati perché proviene da un monastero e è stato molto usato e ha questa particolarità dell'ordito che sale e ha ancora delle parti in corda e quindi ce lo portiamo anche quando andiamo alle reivocazioni e ci chiamano a fare dimostrazioni di questo antico mestiere che ci appassiona molto. Noi siamo parte del presidente, che è una cosa importante perché è la persona che ne sa di più, siamo altre tre, lavoriamo nelle scuole a progetto e poi facciamo corsi per chi fosse interessato, sia per gli adulti che per i bambini, che per le persone che vogliono apprendere questo antico mestiere. Un progetto che insomma fa cultura, tecnologia, storia, c'è tanto da imparare dietro la tessitura? Sì, c'è la ricerca storica dei motivi anche tipici, umbri, vabbè le tovaglie perugine lo sappiamo, i colori, in realtà ecco è un'attività artigianale come tutte le attività artigianali, si presta anche a una certa terapia tra virgolette, molto rilassante, ci vuole concentrazione, però è anche coinvolgente insomma emotivamente. Quindi sì, lo proponiamo diciamo a tante persone che vengono anche per rilassarsi, semplicemente. Faremo forse una palestra tessile per chi volesse praticare anche dopo cena per fare un po' di tessitura. Sì, c'è la ricerca, cerchiamo ovviamente di fare delle cose originali, insomma di fare ricerca e di creare dei prodotti nuovi, insomma la tradizione sì, però ovviamente è sempre in movimento, questa è una cosa importante insomma, quindi insomma speriamo che vada avanti, noi siamo quattro persone, siamo tutte, mettiamo il nostro tempo e insomma è appassionante e continuiamo questa attività molto volentieri.